Ciao ragazzi, allora visto che la barba come sto vedendo sta raggiungendo dei livelli abbastanza importanti piano piano posso parlare di un sigaro che prende il nome da un, come si dice in inglese, Beardman, uomo barbuto, storico ossia il toscano Garibaldi il Grande un sigaro che ho fumato tanto, soprattutto all'inizio, quando ero un grande consumatore del Garibaldi proprio Basic compravo spesso, soprattutto d'estate, mi piaceva fumarlo poi invece ultimamente l'ho comprato un po' di meno mi pare che questa scatola con i rincari l'ho pagata 3,30 euro, una cosa del genere e la scatola contiene due sigari cosa è il Garibaldi il Grande? sarebbe una versione a pancia larga, anche più raffinata, del toscano Garibaldi piccolo inciso, recentemente il toscano Garibaldi, che non fumo più tanto l'ho ribazzicato un po' con un paio di confezioni e ho trovato dei sigari drammaticamente dimagriti con un gusto più sbilanciato verso l'erbaceo e anche leggermente depotenziati di forza forse io non lo so che assumo più nicotina non so cosa dirvi però mi sono sembrati molto 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 più leggeri i sigari che già erano leggeri e però questo induce a fumare molti più ammezzati al giorno una cosa che non tanto gradisco ditemi cosa ne pensate nei commenti lo so, il toscano Garibaldi poi ultimamente non gode di una buona fama però credo che sia ancora oggi uno dei toscani più fumati perciò, insomma, se ne può parlare senza pregiudizio come tutti gli altri sigari vabbè, ci ho detto ho già tolto il cellofano alla scatola ho rotto il sigillo vi faccio vedere un po' il retro della scatola il pancia larga con tabacco beneventano poi essiccazione a fuoco 2 punti su 5 fermentazione media stagionatura 3 punti su 5 aperta la scatola ho avuto, devo dire, una sorpresa non troppo piacevole allora perché, se guardate bene non tanto questo che diciamo si mantiene ancora anche se è un sigaro particolarmente dimagrito rispetto alle prime edizioni del Garibaldi il Grande certo, se consideriamo adesso quanto è dimagrito il toscano Garibaldi potrebbe essere considerato a pancia larga comunque già qua vedete la prima differenza sostanziale è che il Garibaldi il Grande non solo è provvisto di cellofan per ogni suo esemplare ma anche di fascetta cosa che invece nella versione basic non esiste i Garibaldi vengono venduti senza cellofan in scatole da 5 sia interi che ammezzati nella versione del cosiddetto Garibaldino comunque sceglierò questo da fumare quello più smizzo per adesso guardate qua che roba guardate quanto è stretto ma vabbè cioè in pratica mi sembra che questa dimensione sia quella di un vecchio Garibaldi normale quasi magari non era proprio così però guardate la fascettina molto carina con il ritratto di un Garibaldi bello barbuto sempre stato d'altronde barbuto è un orgoglio di tutti noi uomini barbuti Garibaldi comunque ecco già dall'odore comunque riconferma il suo carattere morbido un po' dolce spaglioso se vogliamo inventarci un po' un aggettivo si dà proprio un po' più di campo non c'è molto legno o meglio si sente un legno poco stagionato è quasi inesistente lo stallatico però tutto sommato è profumato dai il tiraggio in questo particolare esemplare mi sembra né troppo lasco né troppo costretto è una cosa nel mezzo abbastanza equilibrato quindi ora cosa farò lo accendo l'accendino è finito ma c'ho un po' anche i chiammiferi allora non accendo quasi mai i toscani con i chiammiferi preferisco il jet flame ma quando capita quando capita cosa faccio ovviamente faccio bruciare via prima lo zolfo si sembra quasi che l'abbia storto apposta invece no lascio che lo zolfo si bruci poi una volta che si è bruciato lo zolfo inizio a tostare un po' il sigaro e questo è il primo fiammifero che uso che non porta a un'accensione completa il secondo fiammifero invece facciamo lo stesso giochetto facciamo andare a ruotare anche un po' per accelerare la cosa facciamo bruciare la merda dello zolfo ecco adesso dando un po' di tirate posso accendere il bracere si è acceso tutto e possiamo iniziare la nostra brava fumata allora parliamo parliamo un po' della fumata di questo sigaro ragazzi praticamente la conosco a memoria quindi possiamo fare anche una mini recensione molto veloce è un sigaro che ha molte caratteristiche in comune col suo fratellino più smirso il garibaldi quindi ha tutto quel carattere erbaceo morbido dolciastro principalmente al gusto però ha anche qualcosina in più personalmente io il legno poco stagionato ce lo sento di più le note di cuoio per carità sono molto flebili bisogna stare proprio attenti per percepirle ma in più questo toscano garibaldi il grande rispetto alla sua versione più smirza ha delle note balsamiche che si riescono a percepire molto di più man mano che ci si avvicina alla pancia cosa dire nel complesso è sempre un sigaro medio-reggero ragazzi non è un sigaro forte però qui si sente maggiormente la progressione di forza dall'inizio adesso alle prime boccate la forza è quasi eterea è veramente la materializzazione della leggerezza scusatemi questo giro di parole ma è veramente molto leggero per poi comunque irrobustirsi andando avanti è comunque molto piacevole secondo me ideale per l'estate lo so adesso è pieno autunno però ci sta ci sta sempre e devo dire che al contrario di molti che lo preferiscono fumare ammezzato io per sentire proprio la progressione della forza preferisco fumarlo intero nonostante ripeto sia un sigaro che sicuramente non è che abbia un'evoluzione no? perché è ripieno short filler ma questa piccola progressione di forza aumento della forza me lo fa preferire nella fumata intera si consuma si consuma tranquillamente in un'ora e mezza se vi piace bere degli alcolici assieme ai sigari con un buon bicchiere di vino bianco ghiacciato probabilmente soprattutto durante la stagione estiva ci sta veramente bene oh quindi direi che abbiamo concluso Garibaldi il grande e niente noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi